Vodiamoci Tony rientrare in campo con la maglia della Frentina, la fascia da capitano. Non è per niente male, intanto l'esterno di Borjo Valero per Tony, il sinistro contrastato Tony. Salta il numero 23 dell'Al Nasr e poi va a calciare sul primo palo chiuso da Abdullah. Davo Camporese in anticipo su Abdullah, Jama prova addirittura al sinistro, alla distanza in due tempi per Migliaccio. Cross sul primo Tony e gol tra il boato della maratona di Luca Tony che si ripresenta così a Firenze siglando l'1-0 al ventunesimo minuto. Nomahal Hassan, serie di finte contro finta, pallone sul sinistro dentro il pallone che viene toccato da Bondix, un'autorete più tutti quelli della Frentina. Destro! Altezza in crocio dei pali che finisce sull'esterno della rete alla destra di Abdullah. Lo fa con Capitan Pizzarro in questo momento, ancora Pizzarro, serie di finte, buono pallone al limite per Adam Ljajic che esce anche dall'inquadratura. Prova a tirar di destro! E' buono il gol! Anche se forse non è stato irresistibile l'opposizione da parte del portiere. Il giovane Giordano, Pasquale, cross dentro per Axel Gulin che riesce a battere in un modo o in un altro Abdullah e portare la Frentina.